Si è messa al volante dopo aver assunto alcolici e cannabinoidi provocando un incidente stradale in pieno centro a Comiso. L'episodio si è verificato sabato sera in via Chekhov. Adesso la polizia ha denunciato a piede libero l'autista, ovvero un Comisano di appena 19 anni. Tre le autovetture coinvolte nel sinistro, una delle quali in sosta, una Toyota Yaris condotta da un vittoriese di 48 anni, una Nissan Micra condotta dal 19enne ed una Ford Escort che era posteggiata nel luogo sbagliato al momento sbagliato. Sono stati gli esami tossicologici effettuati dai medici del pronto soccorso Comisano, dove i due conducenti dei veicoli sono stati accompagnati per le cure del caso a evidenziare che il 19enne aveva assunto alcolici e stupefacenti. In particolare le analisi dei sanitari hanno mostrato nel sangue del giovane la presenza di cannabinoidi pari a 206,51, valore di riferimento 50, nonché la presenza di etanolo pari a 115,9, quando il valore di riferimento è anche qui 50. Per il 19enne, oltre alla denuncia, per guida in stato di ebrezza alcolica e in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, è scattato a quel punto anche il ritiro della patente.